Il Benevento è passato in seria. Il sindaco di Benevento, Mastella, ha detto che non gradisce sedersi vicino a lei nello stadio quando vi capiterà di assistere a lei. Lui avrà delle allergie. Io sono molto felice che invece il Benevento sia venuto in seria. Il Benevento è dei beneventani, ovviamente. Mastella può scegliere quello che vuole. Non è un tema che mi appassiona. Se lui non ha gradimento io non mi strappo i capelli col fatto che non debba stare vicino a Mastella. E' un problema suo però, che è un po' diffuso nella politica. Ma come no? Napoli è una città rifugio, accoglie pure Mastella, non c'è problema. Grazie a tutti.